E' ora di andare! The enemies have struck first. Our side is in the lead. Ecco! Munizioni! Munizioni, avanti! Forza! Ecco dei proiettili! State attenti! Fronte delle munizioni! Ecco dei proiettili! Attenzione! Mi serve un medico! Mi hanno preso! Medico! Mi hanno preso, dottore! Mi hanno preso! Mi hanno preso! Mi hanno preso! Mi hanno preso! Sì! Mi hanno preso! ce ne andiamo da qui ecco le munizioni ecco qui un po di munizione ecco un po di proiettili proiettili ecco qui ecco le munizioni un po di proiettili datemi delle munizioni attenti 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 No Grazie a tutti 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 Grazie a tutti